premiamo bene per chi non l'ha fatto precedentemente ricordiamo che è importante premiare il pane soprattutto al momento giusto e prende la palla ok rifacciamo un rigore preghi e fate ok allora chiama il pane mette il pane davanti giudici e lanciategli la palla vediamo un po' facciamo questa prova un piccolo favore se questo qua arriva alla riga di attivazione metallica metterci qua e vedi quindi mi chiedevo di dire non la squadra se no vuoi che fanno se no ma non lo vedi ok è saltito il naso comunque è stato tranquillo va vale un altro allora scarpe il pane è il pane di buona si informa un gentile clientela e al piano superiore al paniglione SC2 è già attivo in servizio di tavola canta che terminerà alle ore 15 e 30 grazie c'è qualcosa là sotto che mi interessa ah ci stanno altri cani c'è la moglie là fuori che le guarda forza Leonardo abbiamo l'ultimo 15 secondi di tempo prova veramente la traccia e resta e resta e ritorno bravo stampo dai e poi Leonardo passiamo alle votazioni dei nostri giudici noi abbiamo un 93 da Mauro 86 da Carlo che grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.